I risultati dei test sierologici e l'utilizzo di una app per il cosiddetto contact tracing rappresentano due passaggi essenziali per la definizione della fase 2, cioè quella nella quale il governo procederà all'allentamento delle misure del lockdown e alla ripresa graduale di alcune attività. Proprio questa mattina il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha sottoscritto e pubblicato il bando che mette a gara con procedura semplificata e di massima urgenza l'acquisto di kit reagenti e consumabili per l'indagine sulla diffusione della malattia da covid in Italia. Tutte le aziende che hanno approntato kit per gli esami sierologici sono invitate dunque a partecipare al bando e avranno tempo da oggi fino al 22 aprile per presentare la propria offerta in formato pdf all'indirizzo PEC presente sul bando pubblicato sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute. Già il 29 di aprile il commissario sottoscriverà il contratto di fornitura con l'azienda vincitrice sulla base della scelta di un'apposita commissione esaminatrice all'interno della quale ci saranno tra gli altri due componenti designati dal Comitato Tecnico Scientifico. Tra i requisiti principali, come ripetuto dagli esperti in questi giorni, c'è la necessità che i test abbiano un elevatissimo livello di sensibilità e specificità tali da abbattere in maniera decisa il rischio di definire falsi positivi e falsi negativi. Il test sierologico verifica se nel sangue della persona sono presenti quegli anticorpi che il sistema immunitario ha dovuto sviluppare per difendersi e poi sopraffare il virus e i margini di errore vanno ridotti. Va detto che il kit che sarà utilizzato tramite questo bando servirà per sviluppare una indagine epidemiologica e quindi avere il quadro della diffusione nella popolazione del SARS-CoV-2 basandosi su un campione di 150.000 la persona è selezionato con l'ausilio di Istat in tutto il paese e diversificato per genere e sei fasce di età. Una gara che invece si è già conclusa è quella della app di contact tracing, ovvero di localizzazione dei contagi. Se l'ha giudicata una società di Milano, la Bending Spoons, il nome dell'applicazione è Immuni e risponde ai requisiti fissati, la volontarietà, la riservatezza dei dati e l'utilizzo di tecnologia Bluetooth. Segnalerà alle persone se nei giorni precedenti è stata a contatto o nelle strette vicinanze di un individuo che poi è stato diagnosticato Covid positivo. In attesa che venga testata in alcune regioni è già chiaro che la app sarà efficace solo se sarà scaricata sugli smartphone del 60% degli italiani.